Buongiorno, ma faccio una premessa questa mattina. Tutti coloro che sono anti-crypto, gli haters delle cripto, voglio fare una precisazione. Quello che è successo su Luna in questi giorni potrebbe tranquillamente verificarsi nella vostra banca. Quindi se tutti andassimo alla stessa banca a ritirare allo stesso momento i fondi, i fondi non ci sarebbero. Quindi quello che è successo a Luna, questo fenomeno di bank run, mettetelo bene nella testa perché potrebbe succedere anche nella finanza tradizionale. Quindi tutte le stronzate che si sparano sul mondo cripto, schema Ponzi, progetti di Luna, Luna è sceso per un tecnicismo che adesso vi spiego. Basta che andate a guardare, posso anche fare nomi perché poi su internet mi sembra che sia abbastanza noto come c'è tutto quello che è successo. Sono stati acquistati da un hedge fund molto grande che si chiama Citadel, che è quello che vi potreste ricordare perché è quello che si diceva comprasse l'order book sul Robinhood. Robinhood che cos'è? Robinhood è un exchange che va moltissimo in America per le commissioni zero o bassissime. e si diceva che avessero comprato l'order book di questo, appunto di questo exchange. Se non vi ricordaste ancora, ve lo ricordate il Gamma Squeeze su GameStop? Benissimo, solo loro. Allora il discorso è questo, hanno acquistato 100.000 bitcoin, il 25% di questi 100.000 bitcoin li hanno ovviamente comprato UST, ok? Con il restante 75% hanno shortato UST, quindi che cosa è successo? UST perde il PEG e il team che cosa deve fare? Deve vendere ulteriormente i bitcoin che in quel momento in cui li hanno venduti, li hanno venduti in perdita e bitcoin dumpa di nuovo. E quindi quello che è successo è che in sostanza UST ha perso il PEG. Tutto questo ammaradanna di roba, io ve l'ho spiegato in 5 secondi, ma è molto molto più complesso come discorso. Io ho cercato di racchiudervi, di farvi un riassunto perché poi andare su tecnicismi secondo me serve ma lascia il tempo che trova. Ma queste robe devono farci capire in che modo bisogna esporsi sul mondo cripto, perché vedete sì è bello il progetto e tutto quanto, ma siamo sempre soggetti a manipolazioni di mercato. Questa, quando io vi dicevo sui video, guardate che questa discesa non ha senso, ovviamente prima di quello che abbiamo saputo in questi giorni sul luna, no? Non ha senso questa discesa, perché era una discesa forzata, una discesa molto, molto, la vedevo indotta, ok? Questa è la parola esatta. E infatti, ecco, è venuto fuori tutto questo ambaradanna di roba, ma ripeto, noi concentriamoci su bitcoin e ripeto sempre, io l'avevo detto anche sui video di Mauri, non comprate altcoin a caso così, perché la massa le compra, perché un mio amico le compra, perché non funziona così. Cioè, dietro luna, il progetto di luna si basava sulla fiducia, ma il progetto di luna, il basarsi sulla fiducia, è quello in cui noi viviamo giornalmente, perché noi ci fidiamo del sistema bancario, che è la stessa identica cosa. Quindi, prima di, ho visto moltissimi post di persone che prendono in giro, ve l'avevo detto, le cripto sono scese, sono andate, sono qui, sono là, sono schiama ponzi e tutto il resto. Secondo me, bitcoin verrà fuori quando? Quando nei vostri conti correnti verranno bloccati con un click e avrete la necessità di spostarvi in bitcoin per non farvi prendere i fondi. Quindi, lì, allora, bitcoin sarà preso come deve essere preso in realtà e non come un asset speculativo e basta. Perché ricordo, se avete dei fondi in banca, basta un click e i fondi non li prendete più. Se vi staccassero la connessione internet e vi bloccassero il conto corrente, siete delle persone finite, ok? Due click basterebbero, uno, due, tac. Con bitcoin questo potrebbe succedere, nì, perché comunque per avere accesso ai fondi dovreste sbagliare voi qualche cosa. Quindi direi che è un'opportunità molto diversa, molto più concreta nel tenersi i soldi, nel gestire i propri fondi, qualsiasi essi siano. Poi, che sia volatile, che non sia volatile, qui potremo aprire un dibattito lungo un anno. Però, in sostanza, questo è per me. Bitcoin resta ancora un qualcosa dove deve venire fuori ancora il vero valore. Perché il vero valore di bitcoin è quello di tenere per sé i propri fondi. Quindi di non avere una persona terza, una società terza che detiene i vostri fondi, ok? Poi su questo ne riparleremo. Allora, andiamo a vedere ora il grafico, perché ieri avevo segnato questo movimento qui di liquidità dinamica. Quando vedete questi movimenti di liquidità dinamica non sono mai di buono ospicio, quindi spesso succede che poi alla fine si verifica un qualcosa, ecco, esattamente come questo. Ora però non tutto va per nuocere, perché ora c'è tantissima sfiducia, tantissima, tantissima. Quindi vediamo un attimo dove gli investitori prenderanno come prezzo di entry, vediamo il prezzo che sceglieranno, il prezzo che reputeranno giusto per fare la propria entry. Situazioni come queste in genere dovrebbero non concludersi, ma continuare con qualcosa del genere, ok? Se dopo un dump vediamo un qualcosa del genere, allora qui possiamo cominciare un attimo a sperare di ritornare long. Ora vediamo, perché ripeto, in questo momento, mentre parliamo anche, c'è una sfiducia incredibile, quindi tutti sono tentati nel liquidare le posizioni e tutto sembra crollare. Io, ripeto, non è la prima volta che assisto a queste cose, per me il valore di bitcoin rimane quello, perché quello che faceva a 10.000 lo faceva a 60, lo fa a 30, lo fa a 27 adesso, e quindi per me il vero valore di bitcoin è quello al di fuori di quanto valga o meno. Allora, innanzitutto prendiamo, ripeto, questo come un insegnamento, perché serve per rimanere sempre con i piedi per terra, perché ricordatevi, quando ci si espone su un mondo come quello delle cripto, queste cose ce le dovete mettere. Se vi sta bene o non vi sta bene, comunque questo è, va bene? Detto questo, vorrei parlare e dire, guardate, che la situazione si riprenderà, adesso saliremo e quant'altro, ma, ripeto, in questo momento, graficamente, perché anche graficamente lascia il tempo che trova, perché ovviamente qui c'è un panico generale, no, dettato da tutto questo. La prossima zona di demand potrebbe essere questa dove siamo ora, ora la disegno con voi, ma, visto l'entità, eccola, questa è la zona di demand dove ci troviamo ora, eccola, la stiamo toccando, ma la prossima zona di demand, secondo me, è intorno ai 24, 22. Fa paura? Sì, sì, ragazzi, sì, sì, perché non piacerà a nessuno, no? Tornare a queste zone, perché poi la domanda è, si fermerà? Quindi vediamo un attimo, io ripeto sempre, questa poteva essere per me, e lo era, una zona di accumulo, questa che vedete qui, questa era per me una zona di accumulo e dove questo movimento ci poteva stare, ma non con questa forza, quindi è ovvio che dobbiamo rivedere le nostre strategie, questo mi sembra chiaro. Mi raccomando sempre di non saltare nel vuoto, comprando altcoin, solo perché l'avete vista scendere, io adesso provo una variazione, un attimo vi faccio vedere l'una che cosa sta succedendo, qui il grafico lo vedete da soli, cioè è incommentabile, no? E quindi che cosa vi voglio dire? Cioè non entrate ora perché sta a 0,25, perché se voi entrate a 0,25, poi l'una arriva a 0,14, avete perso il 50%, non entrate così tanto per, ma come non dovete entrare qui, non dovete entrare su nessun altcoin momentaneamente, perché come vedete c'è tanta paura, ma tanta paura nel mondo DeFi in generale, non solo in luna, ok? Anche perché luna era strettamente correlata con il mondo DeFi, cioè ricordo che comunque UST parliamo di una capitalizzazione che sul mondo cripto era un qualcosa di molto importante. Detto questo, vediamo anche oggi poi dove si fermerà, perché ecco, ripeto, quando ci sono questi forti scossoni, sale il panico, ogni analisi grafica lascia il tempo che trova, perché ripeto, qui questi movimenti sono dettati dalla paura e non da altro. Vediamo ed aspettiamo, non possiamo fare altro, io vi dico di non prendere decisioni avventate nel caso voi non foste ancora a mercato, va bene? Ci aggiorneremo anche sul canale Telegram, in modo tale da rimanere un pochino sempre in contatto, senza fare un ulteriore video magari oggi. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo la prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti!